La Commissione istituzionale per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana, presiduta dal consigliere del PD Marco Nicolai, ha approvato una proposta di risoluzione per consentire una manutenzione più funzionale della rete elettrica nelle zone montane interne. L'atto d'iniziativa della Commissione è stato approvato con voto favorevole all'unanimità. Terme di Montecatini, la regione per il concordato in bianco è quanto dichiara nella sua comunicazione al Consiglio regionale l'assessore alle infrastrutture digitali e all'innovazione Stefano Cioffo, che coordina le partecipazioni regionali sulle tematiche economico-finanziarie. Consentire la manutenzione della rete elettrica regionale nel modo più funzionale possibile, è questo l'obiettivo della proposta di risoluzione approvata dall'Assemblea legislativa toscana ad ampia maggioranza. Una necessità, secondo il Presidente della Commissione aree interne Marco Nicolai, soprattutto la luce delle nevicate di gennaio del 2021, che hanno causato l'interruzione di energia elettrica anche per diversi giorni, per aziende e famiglie che non è degno di paese avanzato. Se parliamo di una transizione ecologica abbiamo bisogno di una rete elettrica che faccia fronte a nuovi scenari dovuti al cambiamento del clima. Un paese come il nostro, che parla spesso di transizione ecologica, in cui i maggiori produttori di auto a livello internazionale ci dicono che nei prossimi anni si passa all'alimentazione elettrica, purtroppo continuiamo a vedere che a seguito dei fenomeni atmosferici varie volte ci sono interruzioni dell'energia elettrica per ore e purtroppo nelle aree montane, in particolare in provincia di Lucca e di Pistoia, l'anno scorso siamo arrivati anche a giorni interi. Questo è inaccettabile e ovviamente oltre al fatto che il gestore deve fare gli interventi sulla rete, però ogni ente deve fare la propria parte. Noi abbiamo provato a cercare di capire cosa la regione può fare ancora per semplificare queste attività, perché la continuità del servizio elettrico è un'attività di pubblico interesse e quando magari c'è un albero troppo vicino che non è stato tagliato e poi si abbatte sulla condotta elettrica poi si creano dei problemi del genere. Quindi noi facciamo tre proposte. La prima è aumentare l'area di pertinenza, quindi fare in modo che la fascia di rispetto dove ci devono essere fatti i tagli di manutenzione arborei sia aumentata rispetto all'attuale, perché purtroppo col cambiamento climatico gli eventi sono sempre più estremi. Poi che nelle aree protette, nelle aree ad esempio fluviali dove ci sono condotte elettriche, anche qua, il taglio di manutenzione fatto dai gestori deve essere considerata attività di pubblico interesse e quindi bisogna semplificare gli adempimenti, passando da meccanismi autorizzativi a meccanismi di mera dichiarazione. Perché appunto qui c'è un pubblico interesse e perché al netto dei vari beni sottoposti a tutela la continuità della rete elettrica è un elemento sempre più fondamentale per le vite di ognuno di noi. L'anno scorso, se vi ricordate, più o meno in questo periodo abbiamo avuto il problema neve qui sulla montagna pistoiese e anche in Garfagnana che ha avuto come conseguenza la mancanza di energia elettrica per diversi giorni. Ecco, questo non deve più accadere e perché non accada bisogna che la manutenzione dei boschi sia migliorata, in particolare delle zone vicine agli elettrodotti che devono essere allargate il più possibile per poter permettere poi all'Enel di poterci lavorare tempestivamente, anche con autorizzazioni più veloci. Non è possibile immaginarsi ancora nel 2022 che una problematica legata a una cattiva manutenzione delle aree boschive, soprattutto in relazione a quello che è il passaggio attraverso le aree boschive, spesso e volentieri, tutto quello che è la competenza delle linee elettriche, che metta poi nelle condizioni intere comunità di essere private addirittura dell'energia elettrica per giorni o per settimane. Quindi c'è da porre al centro della questione l'area interna anche sotto questo profilo, ma facendolo attraverso l'investimento che noi chiediamo che Regione Toscana faccia e nei confronti del Governo, ma faccia anche con le proprie casse. Quello che occorre sono risorse che sono superiori, che devono essere, che sono sostanzialmente superiori a quelle che vengono stanziate. Non si può parlare in questo caso di interventi spot o dunatantum, non si aspettano i sindaci di queste località il milioncino da poter spendere annualmente a bilancio, magari in prospettiva elettorale. Servono interventi mirati per frenare questa erosione, che è un'erosione demografica, è un'erosione commerciale, è un'erosione dei servizi. È una problematica che non si ferma mentre non ne parliamo in aula e per fare le cose fatte bene occorrono risorse davvero importanti con progettualità pratiche nei confronti di questi territori. Io ho votato contrario a nome del Movimento 5 Stelle perché per quanto possano apparire comprensibili e giustificabili le intenzioni, non mi fido di questi atti che aumentano le possibilità di tagliare in modo un po' così indiscriminato senza tante regole. Quindi ho votato contrario perché non mi sento tutelata da questi atti di questo tipo. Tra l'altro vi anticipo che sto ultimando una proposta di legge proprio per rivedere e modificare la legge forestale regionale della Toscana. Quindi in attesa di questo che avverrà entro la prossima settimana io ho votato contrario a nome del Movimento 5 Stelle. Per le terme di Montecatini la giunta regionale darà mandato all'amministratore unico di avviare tutte le azioni volte alla necessità di preservare il patrimonio societario per la tutela dei creditori del territorio, quale la presentazione di un'istanza di concordato preventivo cosiddetto in bianco funzionale alla predisposizione di un piano concordatario in tempi conguri al fine di limitare la perdita di liquidità. È questa la posizione della regione toscana così come l'ha espressa l'assessore Stefano Ciuoffo che va verso il concordato preventivo in bianco. Nella sua replica in seguita al dibattito che si è sviluppato in aula l'assessore Ciuoffo ha evidenziato la crisi che ha investito tutte le località termali in varie regioni italiane ricordando che nonostante le difficoltà il sistema termale toscano resta leader a livello nazionale. È necessario mettere in campo una procedura che consenta di salvaguardare il patrimonio e quindi andiamo verso il concordato. Io ho ribadito quanto detto al momento dell'approvazione del DEF, cioè gli obiettivi sono quelli di salvaguardare l'occupazione, dare continuità a servizi, valorizzare il patrimonio e soprattutto garantire la fruibilità pubblica del tettuccio di quel nucleo identitario forte che costituisce anche l'agorà della città stessa. Questo lo si fa a questo punto nell'ambito di una procedura e siccome sono intervenute anche interessi vari come quello, la disponibilità della Fondazione Caripit a acquistare un immobile e la disponibilità dei ministeri a lavorare insieme ai soci per garantire il salvataggio della società, vorrei che questi obiettivi venissero conseguiti attraverso un lavoro comune, quindi non dando noi soluzioni e ricette ma lasciando che la Giunta valuti insieme al socio comune e agli altri partner la strada migliore da seguire, ripeto, per garantire che la proprietà pubblica del tettuccio venga messa in campo, venga conseguita, venga garantita ma con una strada chiaramente che deve essere condivisa fra tutti e con un ruolo che certamente la regione avrà. Sulle terme è evidente che un processo industriale, economico così forte nel territorio, nella Toscana, che sa che valorizzare il termalismo porta a delle scelte importanti. La regione toscana deve essere il contenitore, può gestire la parte immobiliare e quando è in grado di poterlo fare sicuramente non può più essere un soggetto gestore. Alcuni processi in questa direzione sono andati anche bene in questi anni rispetto anche ai vincoli che la Corte dei Conti ha posto ai bilanci regionali, basta per andare a quello che è successo a Chianciano, su Montecatini la problematica è maggiore, c'è una mole anche di indebitamento notevole, è evidente che ogni passaggio e ogni valutazione va fatta con accurata delicatezza ed è corretto che l'assessore abbia riferito al Consiglio della fotografia dalla quale la regione dovrà assumere le proprie decisioni. Il centrodestra chiede che sia avviato un concordato. Per avviare un concordato però occorrono delle basi solide. Per questo motivo noi chiediamo alla Giunta, come promesso anche dal Presidente Gianni in campagna elettorale, che acquistino il Tettuccio, uno stabilimento di valore storico architettonico indicibile, che è giusto che rimanga in mani pubbliche. Questo perché? Perché la Giunta regionale ha acquistato tantissimo, a partire dall'ex Mayer e altre strutture. A noi ci sembra che l'acquisto del Tettuccio sia, diciamo, doveroso da parte della regione toscana, ma non solo per salvaguardare la città di Montecatini, in generale anche perché siamo entrati a luglio scorso a far parte dell'UNESCO. Come ha detto il Presidente Gianni, l'ottava perla della Toscana, quindi ci sembra appunto che politicamente potrebbero, se volessero, fare questa acquisizione. Inoltre c'è da dire che se non lo facessero si andrebbe veramente al fallimento, ma non solo Montecatini, ma tutta la Val di Nievole. Inoltre terrò a dire alla Giunta che in tutti questi anni mai hanno fatto niente per le città termali. Cioè la regione toscana manca una politica sulle città termali, in particolare su quelle città dove il patrimonio è pubblico, quindi serve un qualcosa, una linea guida a qualcosa a livello regionale. Potrebbe essere una holding che, diciamo, raccoglie tutte le città termali della Toscana e in qualche modo trovare il modo di rilanciarle, perché questo servirebbe al turismo. In questo momento, che il turismo anche internazionale c'è poco, potrebbe essere quello interno a usufruirne. E poi Montecatini, Terme d'Europa, è conosciuta in tutto il mondo. Tutti sanno ormai che siamo patrimonio dell'UNESCO e dobbiamo rimanere patrimonio dell'UNESCO. Come centrodestra abbiamo presentato una proposta di risoluzione collegata alla comunicazione che oggi è costretto a fare l'assessore Cioffo per chiedere che, caduta la pregiudiziale delle possibili azioni revocatorie, proprio perché in presenza di una istanza di fallimento si può procedere, tra le altre, anche alla procedura di concordato, la Regione dia seguito alle promesse fatte, le ultime dal Presidente Gianni nel 2020, ed acquisti il tettuccio. Sarebbe una operazione straordinaria, all'interno naturalmente di un piano più complessivo, che potrebbe vedere anche la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti per le Leopoldine, che rimetterebbe sostanzialmente conti a posto, chiuderebbe i rapporti con i tanti creditori della società e consentirebbe quindi di non bloccare né l'attività né tantomeno la fruibilità pubblica degli spazi più prestigiosi, che sono stati, come sapete, recentemente riconosciuti come patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. La posizione nostra è di forte critica, perché si arriva oggi a una non soluzione, dopo anni di crisi non affrontate, la politica non si è dimostrata capace di gestire una situazione difficile, non ha avuto una visione imprenditoriale, ma non ha nemmeno saputo affidarsi a delle persone capaci di risolvere il problema. E quindi ci siamo trovati di fronte negli anni ad affrontare offerte di società non meglio identificate, di offerte irrevocabili d'acquisto senza nemmeno l'assegno allegato e non si capisce veramente come si continui a procedere su questa linea. Il problema grosso è che intorno alle terme di Montecatini è legata la produttività e l'economia di un'intera città, di un intero territorio e questo rende ancora più colpevole e più ingiustificabile l'atteggiamento della Regione Toscana, che tra l'altro noi pensavamo nel frattempo, da quando c'è stata l'audizione in Commissione Controllo dell'Assessore Cioffo, si fosse mosso anche sui tavoli governativi. Invece oggi nella relazione dell'Assessore non c'è assolutamente traccia di un interessamento, di un contatto con il Governo e questo è chiaro che non può essere un problema risolto soltanto dalla Regione Toscana.